L'attaccante giallorosso Edin Zeko, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del pareggio sul campo del Kelsia. Per noi è una notte splendida. Un punto vi ha bene anche se potevamo vincere. Abbiamo giocato in modo incredibile. Tutti insieme dal primo minuto. Peccato i gol presi, significa che dobbiamo lavorare di più ma va bene. Loro sono forti, da tre occasioni hanno fatto tre gol. La mentalità era giusta. Abbiamo giocato qui come se fossimo stati in casa sin dal primo minuto. Io ho già detto ieri che il calcio italiano mi ha migliorato molto e si è visto pure oggi. Ai tempi del City non avevo mai segnato contro di loro, penso di aver fatto bene. Per la qualificazione è ancora presto. Questo punto è importante, ma adesso c'è prima da tornare a pensare alla Serie A.